Quando fai una poesia improvvisata devi raccogliere dei dati molto velocemente e poi mentre la canti componi con questo schema matematico, quindi è un problema di velocità anche perché devi intanto cantare e chiudere il racconto che hai iniziato a fare. Mentre canti pensi, un po' come quando uno canta una canzone, una soprano canta una lirica, pensa allo schema, a tutti i movimenti del diaframma, però anche pensa al senso della cosa, pensa all'emozione, prova un'emozione, è un'azione che si costruisce mentre la fai, è un'invenzione che vive mentre la costruisci, mentre c'è. E quindi giustamente la ragazza disse, è una forma particolare di concentrazione.